Ciao a tutti, sono Andrea da Caravambacci e oggi vorrei parlare di un argomento che mi sta particolarmente a cuore gli impianti al gas ma soprattutto la sicurezza degli impianti al gas la sicurezza vostra, la sicurezza di chi sta con voi sul camper e anche la sicurezza dei vostri vicini quando arriva un camper nella casa costruttrice abbiamo la certezza che esso rispetti tutti gli standard dovuti per quanto riguarda gli utilizzatori al gas sia per quanto riguarda gli accessori installati dentro, sia per quanto riguarda anche l'installazione stessa come Caravambacci è da circa 4 anni che ci siamo dotati di strumenti professionali per poter garantire lo stesso identico elevatissimo standard di sicurezza anche su camper usati che andiamo a consegnare o se volete anche per un controllo sul vostro camper per avere la certezza di poter andare in giro con la massima sicurezza prima della consegna di tutti i nostri camper usati facciamo il test tenuto all'impianto al gas per garantirvi la massima sicurezza dell'utilizzo del veicolo oltre a controllare che l'impianto rispetti tutte le normative per evitare che il fa da te possa crearvi dei problemi molto seri in questi anni abbiamo visto veramente di tutto dentro Gavone del Gas oltre al controllo della tenuta del gas siamo costantemente formati direttamente alle case madri e potete offrire ulteriori accessori e migliorare ancora di più la vostra sicurezza e il comfort durante l'utilizzo del camper venite con noi e partite in sicurezza con Caravambacci grazie a tutti grazie a tutti